Come affrontare i fallimenti e le battute d'arresto che incontriamo nel nostro dovere? Voi vivereste nella negatività e nelle incomprensioni? Qual è la volontà di Dio quando incontriamo queste difficoltà? Questa testimonianza vi aiuterà a capire come cercare la verità e trarre un insegnamento dai fallimenti e dalle battute d'arresto. Ho accolto l'opera di Dio onnipotente degli ultimi giorni nel dicembre 2020. Pochi mesi dopo, sono stata eletta leader della chiesa. C'era molto lavoro da svolgere e questioni da risolvere nella chiesa. Mi ci sono dedicata con entusiasmo. Con il tempo, ho acquisito un po' di familiarità con il lavoro della chiesa, ma mi imbattevo ancora in molti problemi. Molti neofiti non venivano alle riunioni regolarmente. Alcuni erano influenzati da dicerie diffuse online, altri non comprendevano bene le verità delle visioni e avevano nozioni religiosi irrisolte. Altri ancora non potevano partecipare perché troppo impegnati con il lavoro. Di fronte a tali problemi, avevo condiviso sulla volontà di Dio per aiutarli a superare le difficoltà. Ma i loro problemi non erano ancora stati risolti. Ero demoralizzata. Mi chiedevo continuamente perché tutto il mio duro lavoro non avesse ancora dato risultati, perché Dio non stava benedicendo la nostra chiesa. I fratelli e le sorelle avevano così tanti problemi e le mie ripetute comunioni con loro non erano servite. Forse non ero adatta al ruolo di leader. Incolpavo me stessa. Ero io la causa di tutto questo. Se mi fossi dimessa, avrebbe potuto diventare leader qualcun altro e il lavoro sarebbe stato più produttivo. Ho iniziato ad abbattermi diventando passiva nel mio dovere. Aspettavo di essere sostituita. Ho persino pensato che Dio stesse creando quelle difficoltà per smascherarmi, per portarmi a fallire e che probabilmente mi avesse già scartata. Questo pensiero mi spaventava. Dio mi aveva abbandonata. Pregavo e ricercavo, ma ancora non capivo la volontà di Dio. Il pensiero che mi avesse abbandonata continuava ad affiorare di tanto in tanto. Mi sentivo sempre molto depressa, stanca e debole. Ero spaventata e sentivo di non avere più l'opera dello Spirito Santo. Questo è fraintendere Dio. Quando iniziamo a praticare in un lavoro, imbatterci in problemi che non riusciamo a risolvere è del tutto normale. Dio non scaccerebbe mai qualcuno a causa di un fallimento temporaneo. Giusto. Lo so, ma all'epoca non capivo la volontà di Dio. La chiesa aveva bisogno di alcuni nuovi capigruppo, così il supervisore ha raccomandato dei neofiti e io li ho nominati direttamente senza approfondire più di tanto. All'inizio tutti dicevano di voler assumere un dovere, ma poi quando hanno iniziato ufficialmente, uno di loro ci ha detto di non poter partecipare perché era occupato con il suo lavoro e un altro che sarebbe arrivato in ritardo alle riunioni per questioni familiari e non sarebbe riuscito a svolgere il compito. Alla fine, ho deciso che per il momento non erano adatti come capigruppo. Mi sono impegnata molto per risolvere le difficoltà che incontravo nel lavoro, ma per un po' non ho ottenuto alcun risultato. In quel momento, non ero capace di sopportare quei fallimenti. Ero negativa e avevo persino paura di affrontare ogni nuovo giorno. Non volevo più svolgere il lavoro della chiesa perché mi ero data molto da fare, ma senza ottenere nulla. Forse Dio voleva smascherarmi, ecco perché affrontavo quella situazione, ma non volevo concedermi di sprofondare in quello stato. Non volevo essere smascherata e scacciata perché non stavo ottenendo risultati. Una volta nei miei devozionali ho letto «I principi per ammettere le responsabilità e dimettersi». Falsi capi e lavoratori che non accolgano la verità, non svolgano lavoro pratico, privi da tempo dell'opera dello Spirito Santo, devono ammettere le loro responsabilità e dimettersi. Leggere questo mi ha fatta sentire ancora più negativa. Che cosa dovevo fare? Non avevo risolto nessuno dei problemi della chiesa, quindi ero una falsa leader. Dovevo ammettere le mie responsabilità e dimettermi affinché venisse eletto un leader competente? Non era una valutazione accurata di te stessa. Un falso leader non accetta la verità e non svolge lavoro concreto, per questo dovrebbe dimettersi. C'erano molti principi che non comprendevi. Non potevi essere definita una falsa leader. Quando non sai fare qualcosa, dovresti cercare di più e collaborare di più con gli altri. È vero. Ti sei aperta e hai condiviso con i fratelli e le sorelle? Sì. No. Avevo paura vedessero che non ero in grado di compiere quel lavoro. Ormai lavoravo nella chiesa già da tre mesi, ma non avevo ancora risolto i problemi che esistevano al suo interno. Ed essendo in quella situazione, non avevo ancora capito la volontà di Dio, né fatto alcun progresso. Stavo addirittura fraintendendo Dio. Temevo che gli altri mi ritenessero troppo negativa e anche che mi rimproverassero perché avevo pensato di dimettermi dal mio lavoro. Una volta in una riunione ho letto queste parole di Dio. Tu sei una persona comune. Devi sopportare molti fallimenti, molti periodi di sconcerto, moltissimi errori di giudizio e anche molte deviazioni. Questo può rivelare pienamente la tua indole corrotta, le tue debolezze e le tue mancanze, la tua ignoranza e la tua stupidità, consentendoti di riesaminare e conoscere te stesso e di avere conoscenza dell'onipotenza e della totale saggezza di Dio, della Sua indole. Otterrai da Lui cose positive, comprenderai la verità ed entrerai nella realtà. Nella tua esperienza, molte cose non andranno come vorresti e di fronte ad esse ti sentirai impotente. Di fronte a queste cose, dovrai ricercare e aspettare, dovrai ottenere da Dio la risposta a ogni questione e capire dalle Sue parole l'essenza sottesa a ogni questione e l'essenza di ogni tipo di persona. È così che si comporta una persona comune, normale. Amen! Dio è incredibilmente saggio. Ho acquisito una nuova comprensione di come Egli opera. Ho visto che tutti devono passare attraverso fallimenti e battute d'arresto e Dio voleva che in tutto questo io cercassi la verità per eliminare la mia corruzione. Sì. Avevo sperimentato alcuni fallimenti e difficoltà nel mio dovere, ma non avevo cercato la verità né la volontà di Dio, non facevo che pensare di dimettermi, perché sentivo di aver fallito nel mio dovere e di non aver fatto ciò che spetta a un leader. Non osavo nemmeno parlare alle altre persone del mio stato attuale. Ero davvero ignorante. Non capivo la volontà di Dio, né perché Egli permetteva che mi accadesse una cosa del genere. Dalle parole di Dio ho capito che ero solo una persona ordinaria, quindi era normale che affrontassi delle difficoltà e dei fallimenti nel mio dovere. Questo celava la volontà di Dio. Esatto. Sì. Quindi mi sono aperta con i miei fratelli e sorelle sul mio stato e ho cercato il loro aiuto. Ho detto loro che avevo pensato di assumermi le mie responsabilità e dimettermi. Loro non mi hanno guardata dall'alto in basso. Anzi, mi hanno aiutata e incoraggiata e hanno condiviso le parole di Dio. Ero davvero commossa. Lode a Dio. Dio sia lodato. Quando affrontiamo delle difficoltà, è meglio condividerle con gli altri. È vero. Sì. Mi hanno letto alcune parole di Dio Onnipotente. Dio Onnipotente dice Nel corso dell'esperienza dell'opera di Dio non importa quante volte hai fallito, sei caduto, sei stato potato, trattato o smascherato. Non sono cose negative. Indipendentemente da come sei stato potato, o trattato, o se è avvenuto da parte di leader, lavoratori, o dei tuoi fratelli o sorelle, sono tutte cose buone. Devi ricordare questo. Non importa quanto tu soffra, in realtà ne stai traendo beneficio. Chiunque abbia esperienza può confermarlo. A prescindere da tutto, essere potato, essere potato, trattato, o smascherato, è sempre una buona cosa. Non è una condanna. È la salvezza di Dio e la migliore opportunità per arrivare a conoscere te stesso. Può portare un cambiamento radicale nella tua esperienza di vita. senza non avrai l'opportunità, lo Stato, né il contesto per riuscire a comprendere la verità della tua corruzione. Se comprendi davvero la verità e sei in grado di portare alla luce le cose corrotte, nascoste nelle profondità del tuo cuore, se sai distinguerle chiaramente, allora questo è un bene e ha risolto un notevole problema di ingresso nella vita ed è di grande beneficio per i cambiamenti nell'indole. Acquisire la capacità di conoscere davvero te stesso è la tua migliore opportunità per correggere le tue abitudini e diventare una persona nuova. Per te è la migliore opportunità per ottenere una vita nuova. Una volta che avrai conosciuto veramente te stesso, riuscirai a capire che quando la verità diventa la vita di una persona è davvero una cosa preziosa e avrai sete di verità, praticherai la verità ed entrerai nella sua realtà. E' una cosa davvero magnifica. Se riesci a cogliere questa opportunità e a riflettere seriamente su te stesso, acquisendo un'autentica conoscenza di te stesso ogni volta che fallisci o che cadi, sarai in grado di rialzarti nel mezzo del pessimismo e della debolezza. Una volta avarcata questa soglia, riuscirai a fare un grande passo avanti e a entrare nella realtà della verità. La salvezza di Dio per l'umanità è salvezza per coloro che amano la verità, salvezza per la parte di loro con forza di volontà e determinazione, per la parte di loro che costituisce il desiderio di verità e giustizia nei loro cuori. La determinazione di una persona è la parte nel suo cuore che brama la giustizia, la bontà e la verità e che ha una coscienza. Dio salva questa parte delle persone e attraverso di essa cambia la loro indole corrotta perché possano comprendere e ottenere la verità, perché la loro corruzione possa essere purificata e la loro indole di vita trasformata. Se non hai queste cose dentro di te, non puoi essere salvato. Perché Pietro viene definito un frutto? Perché in lui c'erano cose di valore che meritavano di essere perfezionate. Egli ricercava la verità in tutte le cose, aveva determinazione e una ferma volontà, aveva senno, era disposto a patire le avversità e amava la verità nel suo cuore. Non lasciava correre gli eventi e sapeva trarre insegnamento da ogni cosa. Questi sono tutti punti di forza. Se non hai nessuno di questi punti di forza, allora sei nei guai. Non sarà facile per te acquisire la verità ed essere salvato. Se non sai fare esperienza o non hai esperienza, non sarai in grado di risolvere le difficoltà degli altri. Poiché non sei capace di mettere in pratica e sperimentare le parole di Dio, non hai idea di cosa fare quando ti accade qualcosa. Affrontare dei problemi ti turba, scoppi in lacrime, diventi negativo e scappi al minimo contrattempo e non sei mai capace di reagire nel modo giusto. A causa di tutto questo, non ti è possibile entrare nella vita. Amen! Dopo aver letto queste parole, una sorella ha condiviso con me qualsiasi battuta d'arresto e fallimento affrontiamo, dobbiamo pregare e cercare la volontà di Dio, non rinunciare alla verità e al nostro dovere. Questa non è la strada giusta per risolvere il problema. È vero. Solo attraverso le difficoltà e i problemi nel dovere, la nostra corruzione e le nostre carenze vengono rivelate e possiamo conoscere veramente noi stessi. Senza queste esperienze, non c'è modo di vedere la nostra corruzione e le nostre mancanze. E allora, come potremmo cambiare? Esatto. Quindi, sperimentare fallimenti e inciampi non è negativo. Dobbiamo cercare la verità e trarne una lezione. Non possiamo fraintendere Dio. Se di fronte alle difficoltà rinunciassimo al nostro dovere, come potremmo sperimentare l'opera di Dio e perseguire la salvezza? Che testimonianza avremmo? Dio non ci chiede molto. Se siamo risoluti di fronte ai problemi e alle difficoltà, preghiamo sinceramente e cerchiamo la verità, Dio ci guiderà e ci aiuterà. Aveva ragione. Ascoltare la comunione di quella sorella è stato davvero illuminante. Ho capito che i fallimenti e gli inciampi sono l'amore di Dio, l'occasione per cercare la verità e imparare una lezione. Ho pensato a Pietro che nella sua vita sperimentò fallimenti, prove, affinamenti e battute d'arresto. A volte patì la debolezza della carne, ma non perse mai la fede in Dio. Perseguì la verità e cercò la volontà di Dio compensando le proprie carenze. Alla fine comprese la verità e conobbe Dio, ottenendo sottomissione e amore per Lui. Dovrei essere forte e risoluta proprio come Pietro, pregando davanti a Dio e cercando la Sua volontà quando affronto battute d'arresto e fallimenti, riflettendo su ciò che mi manca, invece di fraintendere e incolpare Dio. Amen! Giusto! Una volta nei miei devozionali ho letto un passo delle parole di Dio che mi ha aiutato a capire meglio la Sua volontà. Le persone devono imparare ad ascoltare le parole di Dio e a comprendere il Suo cuore, non lo devono fraintendere. In effetti, in molti casi la preoccupazione delle persone deriva dai loro interessi personali. Parlando in generale, è la paura di non ottenere nessun esito. Le persone domandano sempre a se stesse e se per caso Dio mi mette a nudo, mi scaccia e mi ripudia? Questa è la tua interpretazione errata di Dio, questi sono solo tuoi pensieri. Devi capire che l'intenzione di Dio nel mettere a nudo le persone non è scacciarle. Le persone vengono messe a nudo per esporre le loro mancanze, i loro errori e l'essenza della loro natura, così che conoscano se stesse e sappiano pentirsi davvero. Dunque, metterle a nudo serve a far crescere le persone nella vita. In assenza di una comprensione pura, le persone rischiano di fraintendere Dio e di diventare negative, deboli o addirittura disperate. In realtà, essere messi a nudo da Dio non significa che si verrà necessariamente scacciati. Lo scopo è aiutarti a conoscere la tua corruzione e farti pentire. Spesso, poiché le persone sono ribelli e non ricercano la verità quando manifestano corruzione, Dio deve esercitare la disciplina. Così a volte mette a nudo le persone, esponendo quanto siano abiette e miserabili, permettendo loro di conoscere se stesse, cosa che le aiuta a crescere nella vita. Mettere a nudo le persone ha due diverse implicazioni. Per i malvagi significa essere scazzati. per coloro che sono in grado di accettare la verità si tratta di un richiamo e di un avvertimento affinché riflettano su se stessi, vedano il loro vero stato e non siano più ribelli e sconsiderati. Perché continuare così sarebbe pericoloso? Mettere a nudo le persone in questo modo significa richiamarle, così che nel loro dovere non siano negligenti e superficiali prendendolo alla leggera, non si accontentino di un minimo rendimento pensando così di aver raggiunto un livello accettabile, mentre in realtà sono molto al di sotto dei requisiti richiesti da Dio. Eppure restano comunque compiaciute, convinte di fare bene. In queste circostanze, Dio disciplina, ammonisce e richiama le persone. Talvolta, Dio mette a nudo le loro brutture e questo serve palesemente a richiamarle. In tali momenti dovresti riflettere su te stesso. Compiere così il tuo dovere è inadeguato, dimostra ribellione, contiene troppe cose negative, è assolutamente superficiale e se poi tu non ti pentirai, sarai punito. Quando Dio ti disciplina e ti mette a nudo non significa necessariamente che sarai scacciato. La questione va affrontata correttamente. Anche se vieni cacciato, dovresti accettarlo e sottometterti e affrettarti a riflettere e pentirti. Amen. Amen. Le parole di Dio mi hanno mostrato che il suo scopo nel mettere a nudo le persone non è scacciarle, ma far loro riconoscere la loro corruzione e le loro mancanze affinché perseguano la verità per risolvere i problemi e progrediscano nella vita. Assolutamente. Sì. Ho iniziato a riflettere su me stessa. Di fronte a vari problemi e difficoltà, non ho sinceramente ponderato e cercato la volontà di Dio né riflettuto su di me per conoscere i miei problemi. Pensavo solo che Dio stesse usando quelle situazioni per smascherarmi e scacciarmi, che non ero adatta al ruolo di leader e che avrei dovuto dimettermi. Stavo fraintendendo Dio. In seguito ho capito che tanti miei problemi nel lavoro rimanevano irrisolti, soprattutto perché non mettevo il cuore nel mio dovere. Sentivo sempre di avere tantissime cose da fare, ma non avevo alcuna direzione o obiettivo quando lavoravo. Facevo solo quello che mi veniva in mente senza cercare alcun risultato. Alcuni sono stati fuorviati da dicerie e io non ho cercato su quale aspetto della verità condividere per risolvere le loro nozioni in modo che potessero discernerle e rimanere saldi sulla vera via. E nel coltivare le persone non ho cercato i principi pertinenti né ho avuto una chiara comprensione delle loro reali condizioni facendolo alla cieca. Di conseguenza non ho ottenuto nulla nemmeno sotto quell'aspetto. Nell'irrigare i nuovi arrivati non ho dato priorità a quali aspetti della verità avrei potuto condividere per risolvere i loro problemi. Quindi neanche in quell'ambito ho ottenuto risultati concreti. Anche se in superficie sembrava che stessi lavorando sodo, non ero attenta e non riassumevo i problemi del nostro lavoro in modo tempestivo con la conseguenza che non si ottenevano risultati. Non solo non riflettevo e non capivo me stessa, ma non cercavo nemmeno la verità. La mia prima reazione è stata scaricare la responsabilità su Dio, pensando mi stesse smascherando, mettendomi in cattiva luce. Ero sempre piena di lamentele, non volevo affrontare fallimenti e battute dal resto, ma avere sempre vita facile con tutto che filava liscio come l'olio. Fraintendevo e incolpavo Dio alla minima difficoltà. Come potevo sperimentare l'opera di Dio e compiere bene il mio dovere. Ero davvero irragionevole. Non è così che un essere creato dovrebbe agire. Resami conto di questo, in preda al rimorso, ho pregato Dio. Dio, hai predisposto questa situazione per formarmi, per farmi crescere nella vita, ma non ho capito la Tua volontà, ti ho frainteso. Sono così ribelle. Ti prego, guidami e aiutami a comprendere la mia indole corrotta. Amen. Poi ho letto un passo delle parole di Dio Onnipotente che mi ha aiutata a capire me stessa. Apprezzo tutti coloro che non sospettano degli altri e mi piace che accetta prontamente la verità. Ho grande riguardo per questi due tipi di persone perché ai miei occhi appaiono come persone oneste e se invece sei falso, sarai circospetto e sospettoso nei confronti di tutte le persone e tutte le questioni e di conseguenza la Tua fede in me sarà costruita su un fondamento di sospetto. Non potrai in alcun modo riconoscere una fede simile. mancando di fede sincera sei ancora più sprovvisto di amore vero e se sei incline a dubitare di Dio e a fare congetture su di Lui allora sei senza dubbio il più ingannevole degli uomini. Rimani lì a domandarti se Dio possa essere come l'uomo imperdonabilmente peccaminoso meschino senza imparzialità né ragionevolezza privo di un senso di giustizia incline a tattiche temibili subdolo e astuto un uomo compiaciuto sia del male che delle tenebre e così discorrendo. La ragione per cui le persone hanno questi pensieri non è forse che non hanno la minima conoscenza di Dio? Questo tipo di fede è a dir poco peccato. inoltre alcuni sono addirittura convinti che quanti mi soddisfano siano proprio gli adulatori e i piaggiatori e che quanti manchino di tali capacità perderanno il loro posto nella casa di Dio. Sono questi l'unica conoscenza e l'unico risultato che avete raggiunto in tanti anni? E la vostra conoscenza di me non si ferma a questo. Peggio è la vostra blasfemia contro lo Spirito di Dio e la denigrazione del cielo. Ecco perché dico che una fede come la vostra vi porterà solo ad allontanarvi da me e ad aumentare la vostra opposizione nei miei confronti. Amen. Amen. Di fronte a quanto rivelato dalle Sue parole, mi vergognavo davvero di me stessa. Nei fallimenti ero sospettosa verso Dio, lo fraintendevo. Pensavo che fosse freddo e senza cuore come le persone che quando Dio vuole usare qualcuno permette a quella persona di godere della Sua grazia, altrimenti la scaccia, la cantona e la ignora. Ho dubitato e sospettato di Dio basandomi sulla psicologia degli ingiusti. ero davvero astuta. Credevo da poco tempo, le verità che comprendevo erano limitate e avevo molti difetti, ma mi hanno comunque nominata leader dandomi la possibilità di praticare, di imparare la verità più in fretta ed entrare nella realtà. Anche se la mia disattenzione nel mio dovere a volte portava alla mancanza di risultati, la Chiesa non mi ha destituita. Gli altri mi hanno aiutata e hanno fatto comunione sulle parole di Dio, guidandomi a comprendere la Sua volontà e a riconoscere la mia corruzione. Proprio così. Tutto ciò che Dio stava facendo per me era veramente coltivarmi e salvarmi. Egli è così gentile e amabile. È vero. Mentre io ero in guardia contro di Lui, sospettosa, la mia era forse autentica fede in Dio. ero stata profondamente avvelenata da Satana, seguendo sempre le sue menzogne come non fidarti di nessuno perché persino la Tua ombra ti lascerà nelle tenebre. E poi, non essere maligno, ma resta sempre in guardia. Stavo in guardia contro tutti, addirittura contro Dio. Questo mi ha permesso di mostrare la gravità della mia indole astuta. e che era da lì che provenivano i miei sospetti e le incomprensioni nei confronti di Dio. Di fronte alle difficoltà, ho dubitato di Dio e l'ho freinteso, ma Egli mi ha comunque guidata a comprendere la verità, consentendomi di vedere i miei problemi. Ho percepito l'amore di Dio e quanto sia reale la Sua salvezza per me. Ho pregato al Suo cospetto, pronta a pentirmi davanti a Lui e a smettere di vivere secondo la mia indole astuta. Amen! Sia lodato Dio! Ho letto questo passo delle parole di Dio. Anche se adesso svolgi di buon grado il tuo dovere e fai sacrifici e ti spendi volentieri, se hai ancora fraintendimenti, congetture, dubbi e lamentele nei confronti di Dio o perfino ribellione e opposizione o se usi vari metodi e tecniche per opporti a Lui e rifiutare la Sua sovranità su di te, se non risolvi tali cose, sarà quasi impossibile che la verità sia padrona della tua persona e la tua vita sarà estenuante. Le persone lottano tormentate in queste condizioni negative, come fossero sprofondate in un pantano, vivendo sempre tra verità e falsità bene e male, come possono scoprire e comprendere la verità? Per ricercare la verità bisogna prima sottomettersi, allora con l'esperienza si otterrà un po' di illuminazione e a quel punto è facile capire la verità. Se si cerca sempre di capire cosa è bene e cosa è male, cosa vero e cosa falso, non si può scoprire la verità. E cosa ne verrà fuori se non si riesce mai a capire e scoprire la verità? Non capire la verità dà origine a nozioni e fraintendimenti su Dio. Con i fraintendimenti è facile lamentarsi. Quando prorompono lamentele, diventano opposizione. L'opposizione a Dio è resistenza contro di Lui e una grave trasgressione. Molte trasgressioni si trasformano in molteplici mali e allora bisogna essere puniti. Questo è il tipo di cosa che deriva dall'essere sempre incapace di comprendere la verità. Amen. Amen. Leggere questo mi ha spaventata per quanto accaduto. Se avessi continuato a vivere in uno stato di negatività senza cercare la verità, senza aprirmi con gli altri, avrei continuato a vivere secondo la mia indole astuta e a fraintendere Dio. Così avrei incolpato Dio, Gli avrei resistito. È una trasgressione. Potevo fare il male e osteggiarlo. È molto pericoloso. Sì. In quel periodo stavo fraintendendo Dio e dubitando di Lui, dominata all'atto pratico dal mio stato negativo. Temevo di essere smascherata e scacciata. Non provavo alcun senso di libertà. Nel mio dovere non facevo altro che impegnarmi. Non appena emergevo a un problema, non riuscivo a non fraintendere Dio e volevo abbandonare. Sono state le parole di Dio a guidarmi ad aprirmi con gli altri e a cercare la verità e a conoscere la mia indole corrotta. Altrimenti avrei continuato a fraintendere Dio e avrei deciso di rinunciare al mio dovere. Le conseguenze sarebbero state orribili. Sì. Decisamente. Quando si sta in guardia da Dio, ci si mette contro di Lui. Allora sarà facile rinunciare al proprio dovere o persino tradirlo. che conseguenze terribili. Sì. Cercare la verità per non fraintendere Dio è fondamentale. Giusto. Ho letto un altro passo delle parole di Dio che mi ha fornito un cammino da praticare quando affronto dei problemi nel lavoro della Chiesa. Le parole di Dio dicono «Riguardo ai problemi che sorgono nella Chiesa, non siate così colmi di timori. Durante la costruzione della Chiesa è impossibile evitare errori, ma nelle difficoltà evitate il panico. Non ve l'ho già detto? Vieni spesso al mio cospetto a pregare e ti mostrerò chiaramente le mie intenzioni». Amen. 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 Dalle parole di Dio hai imparato che è inevitabile incontrare varie difficoltà nel lavoro della Chiesa. È perfettamente normale e Dio permette che accada. Quando incontriamo delle difficoltà purché preghiamo e ci affidiamo a Dio, Egli ci guiderà a superarle. Sì, è vero. Nuovi credenti hanno accettato l'opera di Dio degli ultimi giorni, non capiscono appieno le verità e possono ancora essere fuorviati dalle dicerie. Dovevo affidarmi di più a Dio e usare le Sue parole per smascherare i tranelli di Satana e aiutare i nuovi credenti a radicarsi sulla vera via. Compresa la volontà di Dio, sono tornata a lavorare in Chiesa. Ho quindi riepilogato errori e problemi del nostro precedente lavoro. Mi sono munita delle verità sui problemi che i nuovi credenti affrontavano e li ho aiutati a risolverli con la comunione. Quanto a coltivare le persone, per prima cosa ricercavo i principi e pregavo con il cuore. Nelle riunioni mi concentravo sull'osservare chi si adattava ai principi per la coltivazione. In quel modo, la selezione delle persone era più accurata. Sì. Lodi a Dio. È un'ottima pratica. Alcune volte mi imbatto ancora in alcuni fallimenti e difficoltà nel mio dovere, ma ora guardo questi problemi da una prospettiva diversa. Mi domando quale lezione Dio vuole che io impari da questa situazione. Faccio in modo di pregare, leggere le parole di Dio e cercare un percorso di pratica e ho anche imparato a chiedere aiuto a fratelli e sorelle. Loro mi fanno notare i problemi nel mio lavoro e io sono in grado di vedere i miei difetti e le mie mancanze. Non credo più che Dio mi voglia mettere in cattiva luce. Sento invece che è un'occasione per riflettere su me stessa, conoscermi e crescere nella vita. Esatto. Una volta una sorella mi ha detto, ho notato che sei diventata più paziente nell'errigare i nuovi credenti e nei problemi sei più brava di prima a ricercare la volontà di Dio. Le sue parole mi hanno davvero commossa. Anche se si trattava solo di un piccolo cambiamento, ho personalmente sperimentato che l'amore e la salvezza di Dio per l'umanità sono puri e reali. Dio mi guida e mi conduce sempre, costantemente al mio fianco. Sono più decisa a compiere il mio dovere e a soddisfare Dio. Dio sia l'odato. È un'esperienza e una comprensione meravigliosa che non otterremmo mai in un ambiente confortevole. È vero. Sì. Dio sia l'odato. Dio sia l'odato.